salve sono il generale figliolo vi voglio aggiornare un attimo di come stanno andando le cose qui come vedete vi ricordate il tamponamento sono scelto dall'auto quello dietro vabbè si avrebbe fatto due canne e vado da quello davanti che è successo esce fuori mi ti dà una cracca un occhio così non ci vedevo più indovinate chi era venuto in vacanza in italia rocky balboa ma confiato come una zampogna porca miseria che sfiga ma proprio tu quello esce incazzato come una iena che si è fatto guarda quali danni calma facciamo il cid che cid io voglio i soldi in contanti qua ci vuole almeno 1.500 euro i contanti non si può stanno limite il tetto contanti il pd rapportato a mille che pd come sai i contanti gli sta gli sta qua carta di credito banco matta ecco perché sono stato esso vengo dal supermercato c'era quattro casse e tre era piena una fila entro dentro si era accampati lì con la tenda stava a fare i fuochi per la notte che è successo non c'è internet non possiamo pagare dobbiamo fare passare la notte qui ecco perché pd 300 la miseria comunque si ritorniamo a noi che facciamo con questo tamponamento senti ti do mille euro 200 fa lo sconto vabbè dai chiudiamo la giuda questi mille euro e qui se fa tardi che mi aspetta a casa sarà non ci credo comunque il frattempo sto occhio che gronda sangue a catinelle dico c'è l'ospedale ah l'ospedale di Bassetti vado qua mi faccio curare vai la infermiera guarda qua che è successo con Rocky c'è Bassetti ma Bassetti adesso un attimo non c'è però guarda ci chiamiamo il dottor Murphy sai quello del good doctor dico si chiamiamo questo mi piace questo questo giovane ragazzo arriva questo mi fa quando gli tagli l'unghia del piede sinistro c'è per caso un callo sotto c'entra si cammina cammina sempre guardate qua da là che si sente i vaccinali c'ho due galli che ti dico la miseria ma dimmi un po' che c'è per caso un furungolo nella natica sinistra si c'è un furungolo si ce l'ho ma per caso che ti sanguino le gengive quando pensi a draghi è fatta la miseria dico andrà qua questa è una sindrome rarissima di cui sono io sono capace di tirarti fuori senti dottoressa Bassetti è arrivato eccolo eccolo ma non è buona Bassetti vieni vieni guarda qua che mi ha fatto la chi fa il boa che possiamo fare ma tu dove sei stato fino adesso sono stato al canale 5 come al canale 5 con questo casino che si è lasciato qua dentro tutti un branco di matti tu vai al canale 5 ma va devi stare qua devi stare no roppi con il canale 5 oh calmino mi fa tu resta venga un attimo qui abbiamo il generale facciami un buon l'acroscopia che a meno che si calma oh sono scappato anzi mi sta a cercare un secondo mi nascondo ci risentiamo ciao ciao